Da sempre Satinic rappresenta il legame tra salute, bellezza e cura dei capelli, in grado di avvalersi delle più avanzate tecnologie per valorizzare al meglio i capelli. I ricercatori Satinic hanno scoperto una tecnologia innovativa per rivitalizzare le chiome in modo completamente diverso. Il nostro esclusivo e brevettato Enerjuve è un complesso dalla carica positiva dei lipidi fortificanti, creatina rinforzante e 18 MEA levigante, che agiscono in tre modi diversi per correggere la carica negativa dei capelli danneggiati. Enerjuve avvolge il capello e seleziona le aree danneggiate a cui legarsi per ricostruire i punti deboli. Penetra fino al cuore del capello per ripararlo e regalargli nuova vita, agendo dall'interno all'esterno. Inoltre leviga la superficie, rendendo i capelli luminosi e sani. Enerjuve è contenuto in tutti gli shampoo e balsami Satinic e in alcuni trattamenti. La collezione Satinic è stata studiata per tutte le esigenze dei capelli. Gli ingredienti vegetali e nutrienti specifici agiscono in sinergia con Enerjuve per dare una nuova vitalità ai capelli. La collezione Satinic sprigiona il potere di qualsiasi tipo di capello. Leviga idrata, ripara i danni, aumenta il volume, evita che i capelli si spezzino, purifica il cuoio capelluto e nutre il capello. Un'intera linea di benefici per qualsiasi tipo di problematica. Le sue esclusive profumazioni donano alla chioma un'esperienza multisensoriale. Satinic, trasformazione positiva. I capelli non smettono mai di crescere. E nemmeno noi.